13-33, 13-80 in questo momento, dovrebbe essere 5-7 come difficoltà e 8-10 come esecuzione e che vuol dire 13-80 ma ancora deve essere ufficializzato. Se così fosse andrebbe comunque a superare la britannica Ruby Evans che avrebbe ottenuto 13-40. Intanto appunto Manila ha terminato il suo europeo benissimo ma soprattutto sana e la cosa ci fa veramente super felici. Intanto abbiamo visto il doppio avvitamento al volteggio della Barboso. Devo uscire ancora l'ufficialità del punteggio legato a Manila Esposito ma è già pronta Abigail Martin, la britannica, ed è 5-7, esecuzione 8-10.